Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Clash Royale per fare delle due v2, cioè partita veloce, per fare un po' di corone per raggiungere un po' di soglie. Poi nel prossimo video di Clash Royale porterò il video in cui farò la chiappa Elisir infatti. Grazie a tutti. 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 potrei giocare con lui perchè sarebbe bravo ok chiesto di rigiocare ok potrei provare già con il barbari scelte fuia però vediamo allora che mettono prima ok ok ma ragazzi hanno sempre l'orda di scheletri non ci fa sopare niente però visto che mi sto a cucciare di trago per uccidere l'orda di scheletri metto il principe no altro ragazzi qua serve ragazzi qua serve ragazzi e ragazzi non so che metto che raga pensa che l'orda di scheletri non ci vanno per ora ragazzi 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 e spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanto like e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao